Cari amici Telebari bentornati a Tempi Supplementari, tema la bellezza quindi prego un'inquadratura larga perché sicuramente a me non riguarda, ma riguarda la bellissima Alessandra Monno reduce dall'esperienza di Miss Italia, Miss Puglia 2012 ed è un piacere averti qui con noi per parlare di questo tema. Abbiamo parlato di varie forme di bellezza, la bellezza è anche nello scrivere, la bellezza è anche nel ballo ed è difficile trovare personaggi che riescono ad incarnare questa duplice prospettiva e l'abbiamo trovato ed è l'ospite di Tempi Supplementari ed è Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan, benvenuto. Ciao, benvenuti, ben trovati, non benvenuti. Allora Ivan, naturalmente la puntata sulla bellezza non poteva avere che Alessandra Monno qui con noi, ma ho scelto anche, sto cercando in tutti quanti modi, alla disperata, un po' come le scivolate di Materazzi per evitare il gole mondiale, Ivan, però tu rappresenti anche nel mondo dei giornalisti, so che è una definizione che non ti piace perché tu hai spesso parlato in varie interviste che hai rilasciato, io non sono bello ma ho molto fascino. Io non ho detto questo, intanto saluto Alessandra Momo che non conosco e tu presenti in Miss Italia senza farmela vedere. Non hai visto Miss Italia, non dire così che mamma rai si arrabbia. Mi ricordo un Alessandro Momo, voi non ricordate che siete troppo giovani, che fu il protagonista purtroppo sfortunato di Malizia, di un film che ebbe un grandissimo successo negli anni 70 e si chiamava Alessandro Momo e me lo ricordo perché era… in quel momento lì fu veramente un botto incredibile per lui purtroppo poi morì in un incidente stradale e molto giovane ma era destinato ad una grandissima carriera. Quindi spero che almeno abbia lo stesso tipo di impatto e non certamente l'esito evidentemente. No, il discorso nacque da quel sondaggio che fece Dani di Ferre dove risultavo quindicesimo, tutte queste menate… Beh, quindicesimo era in intertoto, Ivan. Sì, sì, però mi presero per i fondelli praticamente tutto il mondo. Allora le domande sulla belletta beh, sinceramente non è che mi la gradissi tanto e dici guarda, magari sono fascinante, che ne so, però la bellezza è una cosa talmente particolare che non è riconoscibile né assolutamente un discorso che vuoi fare autoreferenziale. Di certo la bellezza si rintraccia anche oltre che nello scrivere anche nel ballo e Ivan è un rappresentante di un programma televisivo veramente molto interessante, molto simpatico, leggero dove si può trascorrere, ecco, una prima serata come ai vecchi tempi, Rai, ecco, senza particolari forme di volgarità ma attraverso appunto il ballo. Cosa ti è piaciuto? Perché tu ti sei anche cimentato come ballerino di questa disciplina. Per te magari non molto, diciamo, non so se nasci ballerino, lo diventi, ecco. No, io non nasco ballerino e non divento ballerino, sono appassionatissimo di musica, che ascolto praticamente 24 su 24 da quando sono nato, lavorando anche per DJ e tutto il resto, e quindi probabilmente l'orecchio ce l'ho, il ritmo l'ho seguito, ho una professoressa, una maestra spettacolare come Natalia Titova e siamo molto divertiti. Il ballo è il grande tabù degli italiani, no? È quello che tutti vorrebbero saper fare bene e che sono in grado di criticare, no? Mi ricordo, sarà capito anche voi di andare in discoteca o in sale da ballo, dove volete, e la gente che guarda e critica chi sta ballando senza peraltro saper ballare, è una cosa meravigliosa. Esatto, è vero. Quindi diciamo che tu incarni anche lo stereotipo perfetto. Chi si intende di calcio in Italia? Tutti si sentono un pochino commissari tecnici. Naturalmente tu sei stato anche direttore di un'importante testata giornalistica e ti intendi di calcio e soprattutto ti sei cimentato con quest'altra grande voglia del paese, che è il ballo. È anche una fortuna. Creduto una cosa, ti interrompo, nel senso che essendo, non sono, io non so come siano fatti i giornalisti sportivi. Io credo di essere un essere umano, per cui un essere umano che ha delle passioni, dei divertimenti, molto tranquilli. A tutti piace ballare, a me piace ballare, piace andare a mangiare, piace stare con gli amici. Cioè non è che il giornalista un po' sportivo, non sportivo, è fatto a tre occhi, quattro mani, cinque teste, hai capito? Cioè è un essere umano come gli altri. Per cui vive delle altre cose. Io non mi riconosco in quelli che fanno i fenomeni intellettuali o il mondo a parte. E il ballo preferito? Ma guarda, i latini, sinceramente i latini. Devo dirti quello che vorrei ballare veramente bene, no più che passionali, ritmati. Sensuali. Mi fa impazzire il reggaeton. Molto giovanile tra l'altro come stile, o sbaglio? Molto ritmato? È molto ritmato, secondo me è molto sexy, molto divertente. L'ho visto fare a Santo Domingo da due dominicani, una roba spettacolare. Poi adesso ho trovato divertentissimi anche queste cose, Zumba, come si chiamano, no? Zumba, presente. Lo sai fare? Lo sai, certo. Allora, poi ci improvviserà lo Zumba, me l'ha detto a me adesso, quindi... Alessandro deve farlo, ma è divertente. Sì, 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 lo faccio proprio tutte le settimane, è bellissimo. Ti scarichi un sacco. Ivan, io conduco tutte le settimane, ma non sono così bravo con lo Zumba, me lo insegna lei. Me lo insegna lei. Ma quello che tu... Devi applicarti molto. Ivan, quello che tu hai detto è molto interessante, offre un altro spunto. E quindi c'è subito una domanda per te, per dovere di ospitalità, e anche per la nostra subito dopo, Alessandra. Viviamo in un paese che a volte è miope. Giustamente Ivan ha detto, nasco giornalista sportivo, devo morire giornalista sportivo. No, nella vita è bello creare delle forme di evoluzione, sia nel piacere di ciò che si fa, sia anche professionali. Non è detto che Ivan Zazzaroni si stanchi un giorno di fare il giurato o l'appassionato di musica in televisione e si mette a condurre un programma diverso, o torni a fare a tempo pienissimo la sua primaria attività. O sbaglio Ivan? Qui non si accetta che una persona sappia fare... Faccio a tempo pienissimo, da 30 anni, il giornalista sportivo, quindi non faccio solo quello. Però tu capirai Ivan che c'è una confusione nel pubblico, soprattutto a livello di mass media, sul fatto che oramai vieni riconosciuto perché la televisione è un mezzo che è un po' più popolare. Soprattutto perché un programma così forte, potente, come Impatto, come Ballando con le stelle, chiaramente ti disorienta da questo punto di vista, nel senso che ti fa entrare nel mondo spettacolo dalla porta principale. Per cui chi non conosceva la tua attività, chi non sapeva cosa facessi, evidentemente, perché la televisione è quella che un pochino determina, e se tu fai 22 anni di giornali pochi lo sanno, sono i lavori o i lettori, evidentemente. Ecco, chi non sa quello pensa che tu sia uno che si è messo a fare il giurato di ballo tutta la vita. In realtà quello è un divertimento, cioè Ballando con le stelle è un divertimento. Ho pensato, sono anche tre mesi spettacolari nel 2006, sette anzi, non mi ricordo neanche l'anno. Sette, sette. Sette, 2007, esattamente. Ed è un'avventura divertente ogni sabato da, praticamente, questo è il sesto anno per me, quindi con un bellissimo gruppo di lavoro, con la fantastica Amelia Carlucci, con la gente che l'antosera avevamo a Fiugi a fare una tappa di Ballando con le stelle, Ballando con Millie, con 2500 persone, la gente diceva quando tornate perché ci fate tanta compagnia. Credo che quando tornate perché ci fate tanta compagnia sia la cosa più bella che ti possano dire. Assolutamente. Allora, Alessandra, è corretta questa cosa? Parti con Miss Italia, ma non è detto che possa fare anche altro, non è detto che debba rimanere come una forma di etichettamento, come semplicemente la bellissima ragazza che partecipa ad un programma. Esatto, secondo me ognuno di noi si fa dei programmi, ha delle aspettative, delle ambizioni. È giusto seguirle, ma è giusto anche essere aperto a fare qualsiasi tipo di esperienza formativa perché ti forma, rimanendo in tema, a livello caratteriale. Ivan, se decidi di ballare, secondo me, a Ballando con le stelle, te la ritrovi, Alessandra, no, ma guarda, io ti dico, noi quest'anno salteremo un tour, salteremo un tour. C'è rimasta male, ha detto come no, ha detto come no. No, 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 hai capito, ho detto, me la ritrovo di sicuro, ma non quest'anno, perché quest'anno noi facciamo un tour, andiamo a settembre del prossimo anno, dopo Alessandra può tranquillamente presentare, anzi la presenteremo come concorrente numero uno. Quindi hai un anno per prepararti, mi raccomando. Ivan, io ti ringrazio, come sempre, per esserti prestato a tempi supplementari qui su Telebari. Alla prossima, grazie ancora e ti seguiamo su Radio DJ. Grazie, ciao. Ciao Ivan. Abbiamo avuto Fabrizio Mazzotta, la voce di Crasti il Clown, un professore di diritto commerciale, direzione Ragnina, lo consiglio veramente, una canzone particolare che rappresenta uno spaccato della nostra generazione, anche se io sembro un ottuagenario, sembro. E abbiamo avuto Ivan Zazzaroni, quindi tutte le forme di bellezza nel ballo, nel doppiaggio, nei cartoni animati, in studio, in tutto. Ringrazio veramente Alessandra per essere stata qui con me. Grazie per i tanti complimenti. Questa, questa ricordati che è casa tua, quando vuoi puoi venire a divertirti, a scherzare con me e con gli ospiti telefonici, ma non finisce qui, adesso scopri perché. Saluto tutti, vi ringrazio e vi ricordo che questo è Tempi Supplementari. Alla prossima. Ciao. Alessandra, sei pronta ai rigori di Tempi Supplementari? Sì. Nome? Alessandra. Cognome? Monno. Età? Venti. Altezza? 1,76. Cosa ne pensi della Valè? Della? Miss Italia era più bella di te? Probabile, se l'hanno votata. A Miss Italia esistono le raccomandazioni? Boh. Ultima volta che hai pianto. Ieri. Cosa pensi degli studenti massacrati durante il G8 di Genova? Un disastro. In Italia quanto ti senti libera di poter raggiungere i tuoi sogni? Abbastanza. Potessi, andresti via da questo paese? Sì. Si dice che questa Italia non sia un paese per giovani, è vero? Beh, è meglio l'America sicuramente. Le tre caratteristiche che il tuo ragazzo deve avere? Ma ce le ha tutte. In ogni caso, pazzo, quindi fuori dalle righe, dolce e affettuoso. Il ciuffo. A scuola eri brava? Brava, sì, ma studiavo pochissimo. Vediamo un po'. Capitale della Finlandia? Helsinki. Come si calcola l'area del triangolo? Base per altezza, no? Ho diviso due. Il pianeta più lontano nel sistema solare? Dove morì Napoleone? A Sant'Elena. Quando è stata scoperta l'America? Nel 1492. Il simbolo chimico dell'acqua? H2O. Nella bandiera italiana quale colore più vicino all'asta? Il verde. Il fiume Senna attraversa quale città europea? Parigi. Sei così brava che vorrei ad abbracciare. Hai mai detto dopo un litigio al tuo ragazzo? Basta, vado con il primo che incontro. Eh, sì. Ma chi è? Eh, sono il primo che incontri. Cosa manca alla nostra generazione, Alessandra? La nostra generazione? Cosa manca? Il coraggio, il coraggio. Cosa manca ad Alessandra per essere felice? Nulla. Credi in Dio? Sì. Temi che dopo Miss Italia possa per te pian piano affievolirsi la notorietà? Sì, ma non mi interessa. Favorevole o contraria all'abolizione della legge Merlin sulle case chiuse, cioè alla loro riapertura? No, contro. Alla presenza di distributori automatici di contraccettivi nelle scuole? No, contro. Contro. All'educazione sessuale nelle scuole? A favore. Eh, ma tu gli insegni cosa fare e non gli dai l'opportunità, però. No. All'ergastolo per chi commette reati nei riguardi di donne e bambini? Ergastolo. Ah, sì, a favore. Alla liberalizzazione della cannabis? No, contro. Alla ulteriore tassazione per sigarette, alcolici e bevande gasate? A favore. All'abolizione del valore giuridico del titolo di studio? Contro. Al dover prendere un caffè con Alvise a fine puntata? A favore. Ma Alvise è più bello di Fabrizio Frizzi? Sì, ha il ciuffo perché è sensuale. La bellezza quanto conta nel tuo ragazzo? Anche tanto. Cioè, per me la bellezza non conta tantissimo, però è bella. La prima cosa che pensi quando ti alzi? A ridormire. Molte ragazze non conoscono Susanna Tamaro, ma sanno chi è Nicole Minetti. Che cosa ti fa pensare questo? Una grande tristezza per quella donna. La frase che più spesso ti dicono i tuoi genitori? E basta. Mi dicono solo quello, basta. Io fino a sei anni pensavo di chiamarmi e basta. La scusa che provi a dire quando torni a casa in ritardo? Ma c'era un traffico terrificante e purtroppo siamo stati bloccati nel traffico. La scusa che inventi quando arrivi tardi a scuola? È la stessa. L'autobus non è passato. Di la verità. Meglio amare o essere amati? Essere amati. Ha detto la verità. I tuoi tempi supplementari sono terminati. A me dispiace anche un po'. Come sei stata oggi a Telebari? Benissimo. Una situazione unica. Mi sono divertente un sacco. Ma non dovevi. Non vorrei che il tuo ragazzo fosse geloso. Un aggettivo per tempi supplementari? Pazzesco. Ma poi, in fondo, in fondo, questo alvise com'è? Dai, simpaticissimo. Alla mano. Grande. Ti sei comportata bene. Per te c'è un regalo. Grazie. Ma è da maschio. Vabbè, i telespettatori già sanno cosa succede adesso. Wuhuuu! Grazie. Vabbè, i telespettatori già sanno cosa succede adesso. Grazie.